ottenuto il controllo del mediterraneo occidentale roma diresse le proprie mire espansionistiche in oriente i romani approfittarono della debolezza dei regni ellenistici e in particolare della grecia minacciata da filippo quinto re di macedonia nell'arco di poco più di 50 anni dal 201 al 146 avanti cristo essi sconfitto prima filippo quinto poi il figlio perseo assoggettarono la macedonia e la grecia trasformando i territori in un'unica provincia romana nel 146 avanti cristo cartagine nel frattempo aveva rialzato la testa il senato ritenendo che l'antica nemica costituisse ancora un pericolo nel 149 dichiarò la terza guerra punica che sotto il comando di publio cornellio scipione emiliano si concluse nel 146 avanti cristo con la spietata distruzione totale di cartagine nel 133 avanti cristo il re attalo terzo alla sua morte lasciò il regno di pergamo in eredità a roma che lo trasformò nella provincia d'asia dopo aver chiuso definitivamente il conflitto con cartagine e mentre conduceva le proprie campagne di conquista in oriente roma rafforzò la sua posizione anche nella penisola italiana estendendo i propri domini a tutta l'italia settentrionale tra il 200 e il 191 avanti cristo attraverso diverse campagne militari i romani sottomisero i celti della gallia cisalpina cioè della pianura padana a nord del po roma trasformò tutta la regione nella terza provincia romana la gallia cisalpina altre campagne permisero il consolidamento della presenza romana in liguria e l'espansione a ovest nell'attuale provenza e a est in veneto e in istria